Adesso tocca a Baranovic che nella situazione precedente un errore l'ha commesso, stavolta tira una gran bordata, palla a filo, Christensen, delizioso, diabolico, ha una mano, non un pallonetto, non un pallonetto, una pimpinella sul muro che si era già alzato per fermarlo, col mignolo della mano destra, 30 pari. 33 a 33, uno scioglilingue per questa situazione di punteggio sulla battuta di Micah Christensen, il capitano, forte, il capitano dalle Hawaii Lays, 34 a 33, secondo di squadra dopo quello di Nema, tocca a Micah per il 34 a 33, ancora con la traiettoria dritta, da posto 1 a posto 5.